Queste ore sono state diffuse da una ONG queste foto. Di fronte a queste foto non si può che non provare un dolore infinito. Però bisogna anche chiedersi perché i bambini muoiono, perché le persone muoiono in mare. E se si vuole dire tutto quello che non si vuole sentire dire, se si vogliono dire le cose fuori dal coro, bisogna dire che le persone muoiono proprio perché ci sono troppe navi che volontariamente o involontariamente fanno il gioco dei trafficanti di morte. Volontariamente o involontariamente le navi delle ONG favoriscono le partenze di Barchini sempre più insicuri e favoriscono la morte. Bisogna dirlo. Ci sono delle procure che stanno indagando su questo. Ci sono dei documenti indiscutibili che ci dicono che le barche dei trafficanti partono quando sanno che ci sono le navi delle ONG che vanno a raccogliere. E più sanno che ci sono le navi, più li fanno partire su barchini insicuri che si ribaltano. Questo bisogna dire. Bisogna fermare questo traffico. E per fermare questo traffico bisogna fermare le navi delle ONG in mezzo al mare. Invece noi no, noi le accogliamo addirittura. Noi abbiamo accolto la nave di Caro Larachete che ha speronato la Guardia di Finanza. Ve la ricordate? Caro Larachete, la capitana Caro, è diventata un'eroina perché speronò la barca della Guardia di Finanza e è arrivata alla sentenza del magistrato impunita. Speronare una barca della Guardia di Finanza si può. Speronare le forze dell'ordine che ti dicono alta si può fare. Ecco lì. Quindi la prossima volta se voi per strada i carabinieri vi fanno fermatevi all'altra, voi potete speronarli. Perché si può fare. In Italia si può fare. Avete visto cosa succede in spagno. In Italia invece si può speronare la Guardia di Finanza. E dietro tutto questo c'è chi guadagna. Ci guadagnano i trafficanti. Ci guadagnano i trafficanti, sicuro. Ma ci guadagnano anche le ONG. Ci guadagnano i signori alla Casarini. Anche lui sotto inchiesta. Ve lo ricordate? Gli immigrati... Eccolo qua. Con i soldi per gli immigrati beviamo champagne. Festeggiavano con i soldi che gli davano gli armatori per prendere gli immigrati. E in questi giorni c'è una richiesta di condanna a 7 anni e 11 mesi per Mimmo Lucano. Il modello di Riace avrebbe sottratto col suo modello 10 milioni di euro alle casse dello Stato.